La mascata, il chiterrista, il tasterista, invece lui c'è in camicia, con la camicia che hai visto. Benissimo, ragazzi pronti via? Sì Allora experimentati come prima, tu qua hai un'ora già, ecco così Voi guardate questa luce qui, va bene? Facite l'unico che sale perché ti posti Benissimo, bene, ok, ok Bene Pronti via, vai, 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 vai Ok, ok, sì Fate un po' quindi, grazie Alla resta tutto, amici, benissimo Via, vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, cronti via No, no, no. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì.